Via Libera neiusa ad una nuova terapia contro la fibrosicistica che migliora la funzione polmonare per le persone colpite dalla malattia con un'età superiore ai 12 anni e con una mutazione del gene regolatore di conduttanza trasmembrana della fibrosicistica. La mutazione è la più comune nella fibrosicistica e si stima sia presente in 9 casi su 10. Il farmaco migliora la capacità della proteina codificata dal gene mutato di funzionare correttamente.